Che sono innocenti e che pensano che io posso dare 40 milioni di euro al fisco italiano, no. Grazie a voi. Io voglio credere in la giustizia italiana, voglio credere in che il sentito comune, no se come si dice, il sentito comune le faccia rivedere tutto quanto per sapere che io al fisco italiano non le devo una lira, e parlo di lira perché, sai, se parlo di euro, 40 devo pagare.